Allora, primo messaggio di questa sede Ragazzi, va a una donna, la numero 15 Ragazzi, chi è la numero 15? Eeeh, questa signora qua, fortunatissima Eccola qua Ciao Come ti chiami? Grazia Si chiama Grazia Da dove vieni Grazia? Da Portogliano Da Portogliano che hai detto, ragazzi E' di alto a Portogliano E tu cosa fai di Portogliano? Camerata Una cameriera, ne vai Se abbiamo bisogno stasera, no? No, oggi, stasera, no? Ascolta, come vorresti un uomo ideale? E' qua il mio problema Eh, lo so Stasera nessuno di uomo di fare Allora, in questo momento non sa che vuole un uomo ideale Va bene Ecco Allora, una qualità che deve assolutamente avere Deve saper parlare Il resto, diciamo, per l'altro Ok? E' questa signora vino dei piedi ragazzi Oh, finalmente Una persona contenta, dai Stasera viene di vero Ehi Allora, ecco qua Inclosendo questo messaggio Spero che questo messaggio capisce la mia vita Speriamo 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 Allora, ecco qua